In Molise nell'ultima settimana RT in aumento ed è ora il più alto d'Italia, passa da 1,01 a 1,62. Sale anche l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti che da 638 di venerdì scorso passa a 702. I dati sono contenuti nel monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, diffuso ogni venerdì. La regione passa da rischio moderato a rischio basso. Sul fronte dell'occupazione dei posti letto il Molise resta sotto le soglie d'allarme, 10,8% in area medica, dato stabile rispetto alla settimana scorsa e 2,6% in terapia intensiva in calo rispetto alla settimana scorsa quando era 7,7%. Veniamo al bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore nessun decesso. I positivi invece sono 433 su 2030 tamponi processati. Alto il tasso di positività, 21,3%. I guariti sono 126. In ospedale due ricoveri e un paziente dimesso. Sono ora 23 i ricoverati al Cardarelli, uno solo è in terapia intensiva. Quanto alla provenienza dei nuovi casi, numeri a due cifre in 7 comuni. In testa Termoli con 87, poi Campobasso con 60, Venafro con 47. Seguono Isernia, 24, Larino 22, Campomarino 16 e Montenero di Bisaccia con 15 casi.